Obiettivo Foggia, Vergani, all'andata è il tuo primo gol in maglia bianca azzurra, il gol del 4-0 ma un gol bellissimo? Sì, 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 un gol bello, una bella prestazione di squadra e speriamo, speriamo e dobbiamo provare a riuscire a fare quello che di buono abbiamo fatto in quella partita lì perché comunque è un avversario tosto e speriamo di riuscire a portare a casa i tre punti come abbiamo fatto nell'ultimo. Chiaramente è un Foggia diverso rispetto a quello visto alla gara di andata, c'è Gallo in panchina, sta facendo bene, magari non è ancora il Foggia che qualcuno si aspettava inizio anno però è una squadra competitiva. Sì, sì, c'è il mercato, sono cambiate tante cose tra cui l'allenatore, però dobbiamo focalizzarci di più su noi stessi perché abbiamo grandi potenzialità come abbiamo dimostrato con le recenti prestazioni e adesso è arrivato anche il primo risultato utile e dobbiamo continuare così. Vergani e Pescara, hai giocato non tantissimo ma ti sei sempre fatto trovare pronto, un tuo giudizio su questa prima parte in maglia bianca azzurra? Per quello che sono stato utilizzato reputo, poi il compito dell'attaccante è quello di far gol quindi reputo positiva la mia prima parte di stagione. È normale che speravo di giocare di più e spero di giocare di più adesso però le scelte non le faccio io. La domanda chiaramente è d'obbligo, Vergani si sta guardando anche intorno nel senso mancano poche giorni al mercato, vuoi più continuità o da Pescara non ti muovi? No, è normale che io voglia più continuità però adesso è inutile parlare di mercato, adesso vedremo se parlando con l'allenatore, con la società riuscirò a trovare continuità qui. Ti chiedo l'ultima cosa, domanda difficile per te ma ci provo. Un tuo giudizio su quello che è successo al tuo compagno Facundo, Lescano? Penso che in questo caso sia da parlare prettamente con lui o alla società o chi di dovere, io non apro poca su questo argomento.